La Gargano La squadra azzurra intanto stiamo seguendo la prova al corpo libero dell'unica rumena presente qui abbiamo già detto più volte i problemi della Romania a reperire a nuove ginnaste proprio forse a causa dei metodi d'allenamento dunque la Romania vera grande assente di questa manifestazione Ilaria Colombo, un salto eseguito in maniera precisissima, molto brava Ilaria vediamo lì in fondo al terreschermo che sta rientrando in postazione la Colombo, molto buono il suo salto anche per lei tra poco vedremo quale sarà il punteggio che le sarà che sarà deciso dalla giuria a proposito di giurie oggi l'italiana Elisabetta De Maria è in giuria per quanto riguarda la trave e la trave sta svolgendo la prova alla Russia intanto conclude al corpo libero l'unica...